Conclusa la campagna estiva di Scavi a Castrum Novum, un impegno che ha riportato alla luce dopo 2.500 anni una realtà importantissima per la città di Santa Marinella, che è riuscita ad espropriare il terreno estendendo così il parco dove sono venuti alla luce altri reperti come il Teatro Romano. Il progetto che sarà redatto dall'amministrazione prevede di raccogliere tutte le bellezze storiche, artistiche, culturali ed archeologiche in un unico polo museale da presentare al mondo croceristico e turistico. Quella di quest'anno, ha sostenuto il dottor Flavio Enei, è stata una delle campagne di scavo più importanti condotte sul territorio. Nel luogo degli scavi sorgirà un grande parco archeologico suddiviso in tre aree. Le prime due si troveranno presso il sito archeologico tra la peschiera e i reperti della precedente campagna di scavo svolta fino al 2010 e comprenderanno un infopoint, un bookshop, una caffetteria, un laboratorio didattico ed una piccola sala conferenze. L'ultima parte comprenderà invece l'area di Torre Chiaruccia con tutti i reperti marini. Con i finanziamenti regionali si otterrà l'attuazione di un itinerario con punti di soste e leggende, un'ipotesi di realtà interattiva con la quale si potrà conoscere e raccontare tutta la storia del territorio.